Finisce a reti inviolate il match tra Casette Verdini e Monturano e la squadra di Marinelli rinvia ancora l'appuntamento con il primo successo casalingo della stagione. Match equilibrato, giocato per lo più a centrocampo, con gli ospiti primi in classifica che si accontentano del pari e lasciano il campo agli avversari. Prima occasione però per il Monturano con una bella punizione di Malloni che passa vicino al palo. Il Casette va vicino al gol intorno alla mezz'ora, azione sulla destra, Romagnoli prolunga al centro e il numero 9 Baiocco, da due metri, si vede ribattere la conclusione da un superbo Diomedi. Ad inizio ripresa continua la sfida tra i due, sempre con l'estremo ospite, attento sulla bella conclusione del numero 9. Altra occasione poco dopo con un colpo di testa, colpo sicuro di Ramaccini che si vede ribattere la conclusione da un difensore sulla linea di porta. Il Monturano tiene fino alla fine ma si fa superare dal porto potenza al comando della classifica. Per il Casetteverdini invece fare i puntati sul prossimo turno in casa dell'erpidenza cascinare. Sentiamo le impressioni dei due mister di Patron Pasquali a fine match. In avanti mancavamo di Fabrizio Vallesi che per noi è un giocatore molto importante, oltre che Veroli che è entrato nell'ultima mezz'ora. Quindi chiaramente in avanti siamo stati pochissimo pericolosi. La partita l'ha fatta il Casetteverdini soprattutto nel primo tempo, ha avuto una buona occasione dove è stato bravo Diomedi. Nel secondo tempo noi abbiamo guadagnato il centrocampo, non abbiamo corso rischi, non abbiamo creato pericoli, quindi per noi il punto oggi, lo 0-0, va benissimo. Bicchiere mezzo pieno o bicchiere mezzo vuoto per la sua squadra? Mezzo vuoto perché abbiamo fatto bene tutta la partita, non abbiamo mai rischiato niente, il portiere Conti non ha fatto nemmeno un intervento, invece noi abbiamo avuto tre o quattro palle importanti, la prima con Bagliocco, poi sul calcio d'angolo Ramaccini, però oggi diciamo che siamo stati bravi sia individualmente come reparto in difesa, il gol non l'abbiamo preso, abbiamo creato, siamo stati squadre e questo è già un bel passo in avanti. Ci è mancato poco per avere la prima vittoria a Casalinga? Sì, in effetti stiamo aspettando questa prima vittoria per l'esplosione di gioia, in questo campo ancora non abbiamo ottenuto il massimo, però la squadra comincia a far vedere i buoni segni di ripresa, di tenuta del campo, di agonismo, quindi puntiamo a risalire un attimo la classifica dopo una partenza leggermente scioccante.